eccoci ancora insieme qui sul mio canale 1936 solo io ragazzi mi chiedevate del pescara avete ragione stavo leggendo i giornali e si incominciano a delineare un po' i nomi per questa estate per la nuova stagione la prossima 2018-19 in serie B ragazzi io ho qui sotto di me il centro e il messaggero in pratica per quanto riguarda l'attacco il pescara pare sta virando su Federico Melchiorri ex attaccante biancazzurro già tre anni fa qui a Pescara nell'anno di Bauroni lo voglio chiamare QC perché se no poi si mette a piove oggi voglio salmare e poi si parla dell'esterno del Parma di Gaudio vi faccio vedere adesso i giornali eccoli qua raga li vedete? non lo so se si vedono comunque Melchiorri di Gaudio ecco il prete del pescara Pilon vorrebbe entrambi gli attaccanti in difesa i sogni sono Gagliolo del Parma e Romagnoli dell'Empoli Romagnoli è quello che stava qui l'anno di Zeeman nel 2012 poi Memushai è un possibile ritorno per il centrocampo ma occhio anche a Bianco del Perugia che Mr. Pilon ha già allenato al Carpi un paio di anni fa il messaggero invece dice può tornare a Memushai, Palazzi e Machini restano in pratica per quanto riguarda il messaggero l'articolo è votato al possibile ritorno di Memushai qui a Pescara unica nota dolente sarebbe l'ingaggio del giocatore che guagna tanto il Crotone vorrebbe riscattare Ben Ali ha già pagato 300.000 euro lo scorso anno per il prestito adesso dovrebbe versare nelle casse biancazzurre altri 1.700.000 però il presidente del Crotone cerca lo sconto Sebastia Sebastia ti fa pagare ti fa pagare 2.000.000 per Ben Ali sono pochi quindi altri che sconde i giocatori nostri se li vogliono hanno una caccia di soldi perché quando non vogliono comprare le giocature ce li fanno sempre pagare fior fior di milioni quindi è finita la storia vuoi Ben Ali? caccia la moneta caccia la moneta non ci vuole gratis stessa cosa per quanto riguarda Francesco Zampano che dovrebbe tornare all'Udinese l'Udinese è un riscatto e dobbiamo vedere se Zampano lo terranno a Udine oppure ce lo rispediranno per il centrocampo si parla del possibile prestito di Palazzi e poi di Machin Machin abbiamo un'opzione per il riscatto di un milione e mezzo ma chi ce li dà i soldi a noi per più a Machin chi ce li dà quindi ragazzi si tratta per il prestito per un altro anno di Machin speriamo che la Roma ce lo lascia magari con sempre con un diritto di riscatto poi vedremo per quanto riguarda l'attacco si parla sempre del 26enne Piccioni attaccante di che giocava con il Sant'Arcangelo in Serie C quest'anno ha fatto 10 gol è un'operazione che si può fare lo possiamo prendere dal Sant'Arcangelo dandogli o qualche contropartita tecnica oppure qualche soldino per il giocatore il Pescara aveva anche adocchiato Michael De Ramo esterno sinistro dell'Avezzano ma in questi giorni c'è su questo ragazzo anche il Livorno per quanto riguarda Carretta esterno della Ternara alla fine è sfumato pure questo perché pare che andrà al Parma firmerà con il Parma che poi lo darà in prestito ragazzi che vi devo dire io questi nomi mi fanno ben sperare perché sono buoni giocatori cioè parliamo di cioè si sta parlando di Gagliolo e Romagnoli in difesa Memuschai Bianco Melchiorri Di Gaudio se dovesse rimanere Machin vabbè poi tutto gira intorno alle cessioni che faremo ai giocatori Brugman non so se può rimanere Brugman io credo che alla fine andrà via arriverà qualche offerta e lo cederemo perché come sapete abbiamo bisogno sempre di soldi noi e quindi questo è quanto adesso rigiro la camera ci rivediamo perché sono 5 minuti che vi stingo a favorire il giornale io sono contento perché se questi sono i nomi anche se sono scettico come al solito fino a quando non vedo non credo io sono come San Tommaso se non vedo non credo quindi quando vi iscrivete al canale e mi fate arrivare a mille io farò un regalo a una persona iscritta al mio canale quindi vedete che volete fare prima arriviamo a mille prima ci sarà questa sorpresa quindi se ancora l'hai fatto iscriviti al canale noi ci vediamo sempre nei video qui su youtube per parlare del pescara e di calcio in generale quest'anno avremo da parlare dei mondiali quest'estate la Sebastianite non se ne va più purtroppo questa è un'epidemia che gira a pescara quindi vi dovete accontentare e niente io vi saluto vi auguro una buona domenica ancora a tutti iscriviti al canale se ancora l'hai fatto iscriviti porca miseria iscriviti vi dovete iscrivere al mio canale commentate fatemi sapere cosa ne pensate di questi nomi per il calciomercato condividete lascia i like e ci vediamo sempre al prossimo episodio ciao a tutti e sempre forza pescara un abbraccio da 1936 solo io sempre con voi ciao a tutti ciao a tutti